Benedico Parrotta, i grandi discorsi della storia citati in qualche modo e anche interpretati dai ragazzi? È un'occasione unica quella di portare in scena quelle parole che hanno veramente smosso le coscienze e hanno cambiato il verso della storia per diversi motivi. Da Martin Luther King, dal I Have a Dream, fino alla vita una figata pazzesca di Bebevio, passando per Non abbiamo un pianeta B di Greta Thunberg, raccontando Malala e il suo percorso di vita e quello che è successo, quello che ha detto una bimba di quell'età che viene quasi uccisa dai talebani e che riesce a dire education first, prima l'educazione, che l'unica arma che uno ha è una penna e un libro, quello ci dovrebbe far riflettere. Lo facciamo con un piglio brillante, come è mio solito, coinvolgendo una compagnia di attori professionisti e cercando di includere in un risultato esplosivo i ragazzi del liceo artistico musicale MIBE, il Mistigoni Bellisario, unendo i ragazzi di Gianna Camplone dell'associazione Diversi Uguali e anche la Onlus, prossimità all'istituzione. Tutto insieme per un risultato pazzesco. Noi vi aspettiamo al Teatro Circus venerdì 12 aprile alle ore 21 e grazie all'assessorato alle politiche sociali e della famiglia del Comune di Pescara e l'avvocato Adelchi Sulpizio, il vice sindaco, che ha sposato l'iniziativa, l'ingresso sarà gratuito. Quindi vi aspettiamo al Teatro Circus.